questa volta sono proprio arrabbiato e questo perché oggi avrei voluto uscire con un video completamente diverso che parlava di un software decisamente carino e sicuramente molto interessante ma per la seconda volta di fila per colpa di microsoft mi tocca fare l'uccellaccio del malaugurio per capire che cosa è successo però dobbiamo fare un piccolo passo indietro ebbene in questi giorni è stata confermata una decisione davvero insensata da parte dello zio bill che mette seriamente a rischio i nostri pc ma in maniera completamente diversa rispetto al solito e per molti versi anche tanto più grave naturalmente però oltre a capire che cosa è stato deciso vedremo anche come risolvere questa situazione in maniera semplice e quasi indolore e allora se ti senti pronto iniziamo e visto che vogliamo iniziare nel migliore dei modi lo faremo come di consueto omaggiando loro ovvero le nostre insidiose quanto riottose divinità del tubo disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va e cominciamo con un articolo bello garrulo e giulivo pubblicato guarda caso dal microsoft network che forse un pochino un pochino di parte lo è l'articolo titola cosa succede a febbraio con microsoft novità per gli account vabbè vediamo di che si tratta e subito ci confortano dicendo che per fortuna non ci sono soltanto cattive notizie del mondo ogni tanto infatti anche qualcosa di buono possiamo raccontarcela microsoft sta introducendo un cambiamento significativo che interesserà milioni di utenti ovvero praticamente tutti a partire da febbraio 2025 l'azienda infatti ha annunciato l'attivazione obbligatoria della verifica in due passaggi la two factor authentication che sarà necessaria per tutti gli account microsoft è che una misura volta a migliorare la sicurezza degli utenti e a contrastare l'aumento di attacchi informatici ciò significa che ci sarà una maggiore sicurezza e che anche le tasche degli utenti saranno più protette cosa possiamo desiderare di più cosa possiamo chiedere di più a microsoft bene ma cerchiamo anche di capire che cosa è questa two factor authentication ne abbiamo parlato più volte in passato ma volendo semplificare moltissimo è quella che richiede l'utilizzo di un ulteriore dispositivo per effettuare un login su un account l'ho detto troppo in tecnichese e lo rispiego meglio significa che non ti basta mettere il tuo nome utente e la tua password ma ti verrà richiesto anche di utilizzare un altro dispositivo che sanno essere in tuo possesso come ad esempio un telefonino oppure una paschi esattamente come quella che ti sto mostrando ne abbiamo parlato in un video precedente ribadisco anzi che è fondamentale possedere una paschi se vuoi ti lascio qualche modello interessante nella descrizione del video ma tornando a noi questo sistema serve ad aumentare la sicurezza di un account perché anche se ti rubassero username e password non potrebbero più accedere in quanto gli servirebbe un terzo dispositivo come ribadisco il tuo cellulare o una bella paschi va bene continuiamo e allora tutti contenti no perché non solo abbiamo il nostro bella account che ci serve per utilizzare praticamente qualsiasi prodotto microsoft a partire da outlook continuando con office skype xbox e chi più ne ha più ne metta ma abbiamo anche un'ulteriore sicurezza data dalla two factor authentication e tutto questo sarebbe veramente meraviglioso se non fosse che microsoft ha pensato bene di tirare fuori dal suo cappello a cilindro questa bella novità che ci racconta hdblog microsoft account da febbraio fate attenzione all'accesso ecco cosa cambia andiamo un pochino più in basso e leggiamo che a partire da febbraio microsoft implementerà una modifica al sistema di accesso ai propri account e che una volta effettuato il login l'utente resterà automaticamente connesso fino a quando non si disconnetterà manualmente oppure utilizzerà una finestra di navigazione privata questa novità sebbene utile per semplificare l'esperienza d'uso comporta anche dei rischi significativi io direi proprio spaventosi per chi accede a dispositivi condivisi o pubblici ad oggi ma questo articolo è del 22 gennaio e le cose sono già cambiate chi accede a un account microsoft riceveva un messaggio che chiedeva se desiderava o meno restare connesso per gli accessi futuri invece con il nuovo sistema quello che è appena entrato in essere l'accesso resterà attivo di default eliminando questa richiesta e quindi di conseguenza se ci si dimentica di effettuare il logout al termine della sessione su un computer condiviso questo account rimarrà aperto esponendo potenzialmente dati personali e mail e documenti a chi utilizza il dispositivo successivamente ovviamente questa modifica richiede una maggiore consapevolezza soprattutto per chi utilizza computer pubblici ad esempio nelle biblioteche negli internet caffè o in altri luoghi condivisi ma non solo pensiamo al caso in cui utilizziamo in una situazione di emergenza un computer in aeroporto in un albergo e così via ma anche semplicemente al fatto che il nostro computer domestico magari viene utilizzato da altri membri della famiglia a cui non abbiamo piacere di concedere comunque benché familiari l'accesso ai nostri dati personali e riservati in questi contesti continua all'articolo è fondamentale quindi adottare due semplici precauzioni una delle quali tuttavia a mio avviso è assolutamente inefficace utilizzare la navigazione privata che secondo me non serve a molto ribadisco mentre è fondamentale ricordarsi di effettuare il logout quindi al termine della nostra sessione è essenziale disconnettersi manualmente te lo farò vedere tra un attimo per chiudere definitivamente l'accesso all'account quindi da ora in poi secondo la bella capoccia di microsoft ogni volta che terminerai di utilizzare ciascuna delle applicazioni che aprirai che richiede un account microsoft e quindi ribadisco outlook word excel access powerpoint skype xbox e così via dovrai uscire manualmente dall'account microsoft vediamo perché perché se utilizzo ad esempio xbox e che mi vede già collegato nel momento in cui vado a chiuderlo non mi viene più chiesto se voglio disconnettere anche l'account e quindi se lo va ad aprire qualcuno dopo di me mi ritroverà già connesso con questo account e quindi la cosa da fare sarà cliccare sul nome account e cliccare sul pulsante disconnetti attendere qualche secondo e accertarci che in corrispondenza dell'account ci sia la voce accedi e non più il nostro nome utente ma questo non è tutto perché ci può capitare anche qualcosa di più serio facciamo un esempio che ti trovi in un albergo utilizzi in situazioni di emergenza come ho detto prima il loro computer per mandare delle mail dal tuo account personale e nella fretta dimentichi di disconnetterti e te ne torni a casa come fai in questo caso beh il primo suggerimento è sicuramente quello di non cadere nel panico perché sulla pagina del supporto ufficiale microsoft esiste una procedura di emergenza che potrai mettere in atto la pagina te la lascio linkata anche nella descrizione di questo video sperando una volta tanto che non ti serva mai in ogni caso quello che ci viene detto è che se accediamo a questa pagina e clicchiamo sul pulsante accedi verremo trasportati direttamente nel dashboard di sicurezza del nostro account microsoft facciamo quindi clic su accedi e una volta nel dashboard di sicurezza dovremo scorrere quasi fino in fondo fino ad individuare questa voce qui quella che dice disconnettersi da tutto tuttavia come ho detto questa soluzione non è completamente indolore è vero infatti che verremo disconnessi da tutte quante le applicazioni ma verremo disconnessi entro 24 ore quindi probabilmente ci sarà un bel po' da aspettare con tutto quello che ne consegue in termini di sicurezza e soprattutto ricorda che purtroppo non è possibile disconnettersi anche da xbox insomma sostanzialmente mai una gioia perché se da un lato lo zio bill ha aumentato la sicurezza dei nostri account per mezzo della two factor authentication dall'altro ce ne ha sottratta molto di più lasciandoci logati su macchine che potenzialmente potrebbero non appartenerci sì lo so penso a linux come se l'avessi detto e io invece che passare a linux passo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti per te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti hai detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima